priorità di portarla a casa perché il quarto posto visto come è andata l'annata sarebbe un grande successo secondo me e più che altro anche per vincere per staccare le inseguitrici e comunque confermare il quinto posto che non sarebbe male. Diciamo che nell'altro girone le prime secondo me le prime quattro sono squadre molto ben attrezzate e molto esperte però ecco sicuramente la mia esperienza diciamo conta molto come arriva ai playoff in che condizioni fisiche condizioni mentali e secondo me molte squadre tra le prime quattro in questo momento lo stanno facendo molto riferimento a che posizione classifica in quale posizione classificarsi ma più che altro risparmiare magari gli acciaccati per arrivare all'appuntamento di playoff tutti con tutti i giocatori in perfette condizioni la stagione è cambiata secondo me la partita proprio contro Montecatini contro la Gemma prima di Natale è stata una partita che abbiamo dominato i primi due tempi e poi come sempre abbiamo avuto un calo però siamo riusciti a portarla a casa dopo cinque sconfitte consecutive e soprattutto perché abbiamo trovato un giocatore fondamentale che secondo me ha svoltato poi il giro di ritorno che Armando e che ha dimostrato diciamo che tutti noi sapevamo il suo potenziale ma probabilmente ancora lui non lo sapeva e per fortuna per noi lui l'ha capito e è riuscito a diciamo a svoltare il nostro giro di ritorno cioè siamo stati tutti molto bravi però lui diciamo è stata l'arma in più che ci ha potuto far svoltare il giro di ritorno